ciao mattia e benvenuto alla rubrica genoa all time sei pronto a raccontarci il tuo undici del genoa da sogno ciao serena sono pronto ok allora vai partiamo intanto ti chiedo subito con che sistema di gioco schieri il tuo undici 433 come mai modern europeo difesa 4 bella tosta si dobbiamo puntare all'europa ok perché ti piacciono anche un po diciamo le scelte offensive sì assolutamente sì beh così anche più facile il genoa ha avuto tantissimi attaccanti che sono entrati nella storia ma anche tanti portieri cosa hai da dire a riguardo credo che quello che sia più leggendario di tutti è depra però non avendolo visto giocare ho solo sentito racconti quindi comunque era un portiere negli anni venti che all'epoca era probabilmente uno dei più forti quindi poi si c'è stato silvano martina che come stile di gioco era quello che più probabilmente più mi somiglia io somiglio a lui probabilmente quindi questi due sono quelli di cui ho sentito parlare meglio però nella mia top 11 metto me stesso ha inizia subito forte ok infatti volevo dirti proprio questo che tutti i tuoi compagni ti hanno inserito volevo chiederti se ti mettevi anche te oppure no per non smentirli va bene ok quindi il portiere l'abbiamo piazzato ora passiamo ai quattro difensori quattro difensori ho scelto i due centrali e Gianluca Signorini che è l'unico che ho scelto di diversi anni fa perché è la leggenda di questo club è il capitano quindi per antonomasia quindi merita di gran lunga di essere nella top 11 all time a fianco a lui ho messo un giocatore di caratura mondiale e nicolas burdisso che ha vinto tantissimo a tantissime presenze nella nazionale argentina ha giocato diversi mondiali quindi credo che sia per curriculum sia per quello che ha fatto qui merita anche lui di stare a di affiancare signorini e due stai e due terzini sono mimmo criscito capitano di oggi conosco da da tantissimi anni e marco rossi che il nostro club manager anche sono 22 che hanno fatto veramente la storia di questo club quindi meritano ampiamente di di stare nella difesa tra l'altro mattia tuo hai già indossato la fascia da capitano cosa significa per chi come te è proprio cresciuto con i colori rosso blu la prima volta che l'ho indossata avevo 22 anni è la sverona genoa e fu cioè quando capì l'importanza di indossare comunque la fascia che è stata indossata veramente da giocatori di spessore umano elevato e mi ha mi ha riempito di orgoglio poi c'è stato un anno che sono stato il capitano a tutti gli effetti l'anno prima di andare via e quel quell'anno lì mi ha responsabilizzato sotto ogni punto di vista mi ha fatto crescere mi ha fatto diventare più uomo prima ero più diciamo un ragazzo e la fascia è un simbolo importante soprattutto per questo per questo club qui allora vai mattia passiamo ai tre centrocampisti tre centrocampisti ho scelto una novità ma per qualità per qualità e per standing tecnico e qualitativo che ha impossibile non metterlo è il chemistrothman credo che sia ampiamente uno dei centrocampisti più forti che abbia mai avuto il genoa qualità qualità qualitativamente parlando poi metto uno della centrocampista che ha fatto la storia del calcio mondiale che tiago motta e serve uno di rottura quindi ho scelto franzilino matusalem un giocatore stato mio compagno di squadra qui ricordo una partita a centrocampo contro la juventus di pogba marchisio pirlo fece una partita stratosferica giocò quasi da solo a centrocampo e ha fatto anche un gol al derby comunque è stato importante in tante in tante situazioni nei due anni che ha giocato qui quindi ho scelto lui ok e passiamo all'attacco qua dicevi che c'è veramente è quasi l'imbarazzo della scelta perché c'è molta abbondanza non posso non mettere milito ok immaginavo non possono milito è veramente un altro che ha scritto pagine di storia importantissime qui quindi va messo lui ha vinto tutto anche lui da giocatore è stato un giocatore immenso e come due esterni metto palacio e giuseppe sculli quindi credo una squadra secondo me che può lottare almeno per la champions dai un tridente con tre dei più grandi attaccanti insomma del nuovo millennio del grifone tu che lo stai vivendo e l'hai anche vissuto ecco scusa ti ti rompo volevo dire comunque so che ci sono tanti altri giocatori che hanno fatto la storia di questo club come scuravi o aguilera però personalmente non avendoli visti giocare non posso giudicare certo preferisco giudicare quelli che ho visto che hai conosciuto che hai visto anni assolutamente e niente questo è il motivo principale per cui ho scelto giocatori un po più moderni ma non ci rimarranno male non ci rimarrà male nessuno invece parlando proprio di questi anni tu che stai vivendo proprio questo millennio del genoa com'è tu che l'hai vissuto raccontaceli un po' questi anni beh negli ultimi anni abbiamo un po sofferto però alla fine siamo sempre riusciti a venire fuori dalle situazioni difficili spero che in futuro una piazza come una squadra come il genoa possa lottare per per palcoscenici un po più ambiziosi ma è la volontà di tutti su alcuni errori passati stiamo costruendo il nostro futuro no quindi non è forte chi non sbaglia mai ma chi sbaglia ed è sempre pronto a rialzarsi a ricominciare a costruire le basi del futuro migliorando i propri errori quindi credo che che questo è importante quest'anno stiamo facendo una buona stagione non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo ma speriamo di raggiungerlo presto lavoriamo quotidianamente dando il cento per cento per questo senti ma tornando un attimino al tridente che ci raccontavi prima secondo te per te quale sarebbe il cliente più ostico milito si è giocato anche contro quando l'inter si ok e allora andiamo a riepilogare l'undici da sogno di per in importa per in marco rossi signorini burdisso criscito strotman tiago motta matusalem palacio milito e sculli mattia grazie mille grazie per aver partecipato alla rubrica grazie a tutti alla prossima